Musica Hanno sfondato con una panda all'ingresso, hanno rubato quello che hanno potuto provocando decine di migliaia di euro di danni, poi sono fuggiti a piedi a seguito del tempestivo intervento di una pattuglia dei libri. E' accaduto questa notte intorno alle 5 nella figliale di Bricoio sulla strada statale 17 Aonna, a pochi chilometri dall'Aquila. Sul posto, mentre i ladri erano ancora all'interno, sono arrivati due vigilantes del Livri, allertati dall'allarme scattato in centrale. I malviventi, due uomini secondo quanto si apprende, dopo aver forzato le casse hanno cercato di fuggire, tornando a bordo dell'auto targata a Pescara, ma hanno trovato i vigilantes a sbarrarli la strada con una loro vettura. Sentendosi braccati hanno allora abbandonato il mezzo, fuggendo a piedi da una porta laterale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia del capoluogo, diretti dal tenente colonnello Andrea Ronchei, che dalle prime ore dell'alba hanno battuto la zona circostante alla ricerca dei ladri e sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del furto. I malviventi sono riusciti a portare via solo qualche centinaio di euro di fondo cassa, mentre i danni causati dallo sfondamento della porta e delle casse ammontano da una prima stima a 30.000 euro. Al nostro microfono Cesare Di Giandomenico, comandante del Libri. È scattato l'allarme, il segnale d'allarme è arrivato presso la nostra centrale operativa di San Giovanni Teatino, la quale ha allertato subito le pattuglie che sono intervenute nell'arco di 4-5 minuti e hanno constatato questo scasso perpetrato ai danni del nostro cliente Brico. Lo scasso è avvenuto con una macchina che è entrata all'interno del punto vendita e le nostre guardie giurate hanno sbarrato la porta di accesso con la nostra vettura di servizio e la vettura che ha commesso lo scasso è rimasta all'interno delle corsie. Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato che hanno fatto gli adempimenti di legge. L'attenzione per l'Aquila resta alta e la ricostruzione è una delle priorità nazionali. Lo assicura il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, nuovo centrodestra, che ha oggi incontrato a Palazzo Fibbioni, accompagnata dal consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, il sindaco Massimo Cialente, il vice sindaco Nicola Trifuoggi e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Oggi sono qua per ascoltare i problemi della città, per mettermi a disposizione, come d'altronde ho sempre fatto anche quando facevo soltanto il senatore. Io sono stata relatrice dei provvedimenti più importanti che hanno riguardato l'Aquila, cioè il decreto enti locali e la legge di stabilità e posso assicurare che sull'Aquila c'è un'attenzione continua e costante del governo grazie anche al grande lavoro che io riconosco ai rappresentanti sia del territorio aquilano che della regione Abruzzo, che di tutte le parti politiche hanno preferito mettere l'Aquila al centro e non i propri partiti. E quindi io credo che, come si è fatto in passato, anche per il futuro, tutte le necessità dell'Aquila saranno accolte. Io credo che in questo completamento della squadra di governo abbiano contato altri tipi di equilibri. D'altronde io al governo rappresento una forza politica diversa dal Partito Democratico e quindi queste sono le ragioni per le quali al governo in questo momento ci sono io. L'88esima Dunata Nazionale degli Alpini, che si svolse all'Aquila dal 15 al 17 maggio 2015, diventa un film reportage per conservare la memoria visiva di un evento che resterà nella storia cittadina e per tracciare un bilancio. L'elaborato multimediale della durata di 30 minuti è stato prodotto dalla sezione Abruzzo dell'Associazione Nazionale Alpini, grazie all'idea di AGT Comunicazioni e Visioni Future e si intitola, dalla testa ai piedi, la marcia degli alpini per l'Aquila. Il resoconto sui numeri fa sorridere gli organizzatori. Nei tre giorni di adunata sono giunti nel capoluogo d'Abruzzo 52.000 alpini per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Nei giorni clou inoltre la stima è stata di 700.000 presenze, dati che hanno generato un impatto economico di ricaduta stimabile in circa 35 milioni di euro. Ai nostri microfoni la soddisfazione per la ottima riuscita della durata del sottosegretario regionale Mario Mazzocca e della presidente dell'Associazione Nazionale Alpini della sezione Abruzzo, Giovanni Natale. La meravigliosa riuscita della durata nazionale del maggio scorso credo che abbiamo tutti, tutti gli abruzzesi hanno potuto prendere coscienza di ciò che è stato, soprattutto la città dell'Aquila, gli aquilani, per aver avuto modo di toccare con mano delle situazioni che soprattutto dal punto di vista psicologico probabilmente sono state molto benefiche per lo stato d'animo dei cittadini stessi. È una donata difficile fare una città come l'Aquila, però è stata una sfida, una sfida vinta. Oggi facciamo il rendiconto di quello che è stato quella grande opera e con questa pubblicazione noi vogliamo rendere onore a quanti hanno lavorato e a quanti hanno dato per questa donata. L'Aquila è di scena a Savona per un vero e proprio scontro salvezza. Si affronteranno le due squadre maggiormente penalizzate dall'inchiesta della scorsa estate sul calcio scommesse. I rosso-blu di Carlo Perrone navigano in acque grigie e occupano la terz'ultima posizione a quota 16 punti dopo la stangata del Tribunale federale nazionale. Il Savona invece è addirittura ultima della classe con solo 9 punti all'attivo. Una partita quindi da vincere a tutti i costi per la truppa di Perrone per risollevare la classifica e possibilmente accorciare le distanze dalla zona salvezza. A far ben sperare c'è la prova di sabato scorso contro la capolista Spal e la solidità difensiva delle ultime tre partite dove l'Aquila ha incassato solo due reti. Una impermeabilità quella del pacchetto arretrato che il difensore rosso-blu Simone Piva spera di confermare anche a Savona. Abbiamo trovato un buon assetto con Emanuele e Cosentini. Stiamo facendo abbastanza bene ma come tutta la squadra d'altronde sta facendo delle buone gare. Quindi cerchiamo di andare a Savona, di confermare questo trend positivo delle ultime partite e cerchiamo di portare a casa un risultato utile. Sul fronte formazione l'allenatore aquilano Perrone dovrebbe optare per la conferma del 3-4-3 con due possibili varianti rispetto all'undici iniziale di una settimana fa. In particolare a centrocampo l'infortunato De Francesco sarà sostituito da Triarico nel ruolo di esterno destro. In attacco invece dovrebbe essere data una chance da titolare alla Pantera Claudio De Sousa da settimane impiegato solo a gara in corso. L'ex attaccante di Lazio e Torino potrebbe giocare al posto di Perna come boa centrale o in seconda ipotesi da esterno offensivo al posto di Ceccarelli. Nel caso invece Perrone dovesse scegliere a sorpresa di giocare con il 3-5-2 De Sousa potrebbe essere schierato da prima punta al fianco di San Domenico mentre nel cuore della mediana ci sarebbe spazio per il trio Bulevardi-Benzaia-Manuel Mancini con Triarico e Ligorio esterni rispettivamente di destra e di sinistra.